Noi siamo rinati da Dio. Con Cristo Dio ha dato vita anche a noi che eravamo morti per i nostri peccati. Nel suo colloquio notturno di Gesù con Nicodemo Gesù afferma in verità in verità ti dico che se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio. Per poter entrare nel regno di Dio, per poter far parte della famiglia di Dio è dunque necessario iniziare un'altra esistenza, cominciare da capo. E' questa nuova vita il grande dono che Gesù ci ha portato dal cielo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La sua incarnazione, tutta la sua vita terrena dal principio alla croce, il lavoro, le fatiche, le preghiere e i sacrifici, la passione e la morte, la missione degli apostoli e la fondazione della Chiesa, tutto è diretto a questo, comunicarci la nuova vita nella sua pienezza. E' qualche cosa di grande questa vita. Sant'Agostino dice vale quanto Dio stesso, il sangue dei figli di Dio ne è il il prezzo. Agli occhi di Gesù la nuova vita è tanto sublime che di fronte ad essa la vita naturale si dovrebbe piuttosto chiamare morte, dice San Gregorio Magno. Gesù infatti ci dice che per chi possiede la vita soprannaturale non vi è più morte, chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E quindi per colui invece che non possiede la vita soprannaturale la stessa risurrezione non è che un risorgere alla morte eterna. La vita soprannaturale è il germe che con la morte sboccia nella vita eterna, la quale nei giorni del giudizio universale invaderà anche il corpo glorificato. Questa redenzione come comunicazione di una nuova vita è la buona novella dagli apostoli predicati in tutto il mondo. Sarete santi rigenerati, scrive il principe degli apostoli. Non da seme corruttibile ma incorruttibile. Noi sappiamo, afferma San Giovanni, che siamo passati dalla morte alla vita. E San Paolo poi nelle sue lettere parlano meno di 150 volte della nuova vita in Cristo. Si vede proprio che era un chiodo per San Paolo il pensare che noi teniamo una vita nuova in Cristo. Essa è per lui come una nuova creazione. Se uno è in Cristo è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuovo. Lo afferma in tante lettere. Questa nuova creazione si attua mediante il lavagro di rigenerazione e di rinnovamento nello spirito santo. Fu senza dubbio un grande avvenimento, un'opera divina quando il creatore chiamò all'esistenza la nostra anima, questa immagine della sua stessa essenza. Ma un'opera senza confronti più grande e meravigliosa fu quando lo spirito creatore nel battesimo fece nascere nell'anima nostra un mondo nuovo pieno di bellezza divino. La vita della grazia, la veste bianca, consegnateci il giorno del battesimo, era simbolo della vita divina nella sua bellezza. Tanto che Dio potrà gridare, ti ho pensato prima della creazione del mondo. Grazie per la visione!